Nella scorsa lezione, dedicata al software del pacchetto di Microsoft Office Excel, abbiamo iniziato a compilare un manualetto di geometria. Lo utilizzeremo per calcolare, delle figure geometriche piane più importanti, il perimetro e l'area, e quindi per familiarizzare con le formule matematiche principali. In particolare abbiamo inserito il nome della prima figura piana, di cui andremo a calcolare le caratteristiche, e cioè il quadrato. E poiché la parola quadrato era troppo lunga per poter essere visibile tutta quanta all'interno della cella dove era stata inserita, abbiamo visto quali sono tutte le tecniche messe a disposizione da Excel per poter aumentare la larghezza di una colonna e l'altezza di una riga. Ci chiediamo a questo punto come fare se vogliamo aumentare o diminuire la larghezza di più colonne o più righe o più celle in un colpo solo, e quindi ci chiediamo come fare a selezionare più colonne o più righe o più celle per volta. Questo argomento è noto, nei manuali dedicati all'apprendimento di Excel, come selezioni multiple. Se vogliamo selezionare un'intera colonna di Excel, basterà appoggiare il mouse sulla lettera di colonna indicata nel sistema di riferimento. Il puntatore del mouse, che solitamente ha la forma di una croce bianca, assumerà l'aspetto di una freccettina nera rivolta verso il basso. A quel punto cliccheremo con il tasto sinistro del mouse. La colonna risulterà evidenziata e quindi selezionata. A quel punto ci rivolgeremo al comando formato, che si trova sotto il menu home. Si aprirà un menu a ventaglio. Se clicchiamo sul comando larghezza colonne, potremo attribuire alla colonna la larghezza che vogliamo, inserendo un numero. Se clicchiamo invece sul comando adatta larghezze colonne, attiveremo il comando adatta al contenuto. La colonna si allargerà dunque quel tanto che basta per contenere la parola più lunga all'interno delle sue celle. Non accadrà niente invece se le celle della colonna risultano vuote. Allo stesso modo, se vogliamo selezionare un'intera riga di Excel, basterà appoggiare il mouse sul numero di riga indicato nel sistema di riferimento. Il puntatore del mouse, che solitamente ha la forma di una croce bianca, assumerà l'aspetto di una freccettina nera rivolta verso destra. A quel punto cliccheremo con il tasto sinistro del mouse. La riga risulterà evidenziata e quindi selezionata. A quel punto ci rivolgeremo al comando formato, che si trova sotto il menu home. Si aprirà un menu a ventaglio, attraverso il quale potremo scegliere se aumentare l'altezza della riga di un certo valore, oppure adattare tale altezza al contenuto delle sue celle. Queste due selezioni, quella di una singola colonna o di una singola riga, non sono in realtà utilissime per variarne le dimensioni, nel senso che se il nostro obiettivo è quello di modificare le dimensioni di una singola colonna o di una singola riga, possiamo evitare di selezionarle. Come abbiamo visto nella scorsa lezione, è infatti sufficiente posizionarsi all'interno di una delle celle di quella colonna o di quella riga, e poi agire con il mouse nei modi che sono stati illustrati, oppure attraverso le opzioni del comando formato. Selezionare un'intera riga o un'intera colonna si rivela invece molto più utile se vogliamo cambiare la formattazione, e quindi il font e i colori, del loro contenuto. Ad ogni modo questa si rivelava una buona occasione per vedere insieme come si selezionano un'intera colonna e un'intera riga di Excel. Supponiamo adesso di voler modificare non la larghezza di una singola colonna, ma di più colonne. Per esempio tutte le colonne che vanno dalla D alla G. Per farlo esistono due tecniche identiche. Una prevede di utilizzare il mouse e l'altra prevede di utilizzare la tastiera. Nel primo caso basterà appoggiare il mouse sulla lettera di colonna della prima colonna, indicato nel sistema di riferimento. Il puntatore del mouse, che solitamente alla forma di una croce bianca, assumerà ancora una volta l'aspetto di una freccettina nera rivolta verso il basso. A quel punto, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, lo trascineremo fino al riferimento dell'ultima colonna da selezionare. Poi lasceremo andare. Il gruppo di colonne risulterà evidenziato e quindi selezionato. Potevamo raggiungere lo stesso risultato in un altro modo, utilizzando la tastiera. Basta appoggiare il mouse sulla lettera di colonna della prima colonna, indicato nel sistema di riferimento. Il puntatore del mouse assumerà l'aspetto di una freccettina nera rivolta verso il basso. A quel punto facciamo clic con il tasto sinistro del mouse. La colonna risulterà evidenziata e quindi selezionata. Tenendo adesso premuto il tasto Shift, cioè quello della lettera maiuscola della tastiera, posizioneremo il mouse sulla lettera di riferimento dell'ultima colonna della nostra selezione, che nel nostro caso abbiamo detto essere la H, e ci clicchiamo sopra. Solo dopo aver effettuato questo clic e non prima, lasceremo andare anche il tasto Shift della tastiera. Errore tipico dei miei allievi quando insegnavo informatica per l'ICDL in un istituto di formazione era quello di lasciare andare prima il tasto Shift e dopo fare clic con il mouse, quindi fate attenzione a non commetterlo anche voi. Il gruppo di colonne risulterà evidenziato e quindi selezionato. A quel punto ci rivolgeremo al comando Formato, che si trova sotto il menu Home. Si aprirà un menu a ventaglio attraverso il quale potremo scegliere di quanto aumentare la larghezza delle colonne. Il problema è che queste due tecniche appena viste permettono di selezionare solo colonne adiacenti. Ma come fare se a noi interessa ad esempio non selezionare tutte le colonne dalla D alla H, ma solo la D e la H? Per farlo basterà ripetere esattamente lo stesso procedimento di prima, quello con la tastiera. Ma anziché tenere premuto il tasto Shift, si terrà premuto il tasto CTRL, cioè Control, della tastiera. Vedete che solo le due colonne cliccate risultano selezionate. Un discorso assolutamente identico può essere fatto per le righe e quindi non lo ripetiamo. Se invece vogliamo modificare le dimensioni di tutte le colonne e di tutte le righe contenute all'interno del foglio di lavoro, le grandissime dimensioni del foglio di Excel, di cui parleremo nel dettaglio più avanti in un prossimo video, ci impediscono di utilizzare una delle tecniche che abbiamo appena visto, e cioè non possiamo pensare di selezionare o tutte le righe o tutte le colonne del foglio di lavoro. La cosa più utile è invece selezionare l'intero foglio di lavoro con un unico gesto. Un intero foglio di calcolo di Excel viene selezionato premendo sul quadratino in alto a sinistra, quello che si trova all'incrocio tra i riferimenti di colonna e i riferimenti di riga. Per deselezionarlo basterà cliccare in un punto a piacere del foglio. Una volta selezionato l'intero foglio di lavoro, ci rivolgeremo come sempre al comando Formato, che si trova sotto il menu Home. Si aprirà un menu a ventaglio attraverso il quale potremo scegliere se aumentare l'altezza di tutte le righe o la larghezza di tutte le colonne oppure entrambe le cose. Se invece quello che ci interessa è selezionare un gruppetto di celle del nostro foglio, procederemo come segue. Anche in questo caso esistono più metodi che prevedono l'uso del solo mouse, l'uso del mouse e della tastiera oppure l'uso della sola tastiera. Come detto prima per le righe e per le colonne, questo tipo di selezione multipla si rivela poco utile quando ci occorre modificare il formato di più celle, ma molto più utile quando vogliamo modificare la formattazione dei testi e dei numeri che esse contengono, oppure il colore delle celle. Supponiamo di voler selezionare tutte le celle del nostro foglio di lavoro dalla cella C3 alla cella H8. Se vogliamo utilizzare solo il mouse, basterà selezionare con un clic del tasto sinistro la prima cella del gruppo, e cioè quella più in alto e a sinistra, che nel nostro caso è la C3. Tenendo sempre premuto il tasto sinistro del mouse, lo trascineremo all'interno dell'intervallo di celle, fino a cliccare con il mouse sull'ultima, e cioè quella più in basso e a destra, che nel nostro caso è la H8. Il gruppo di celle risulterà evidenziato, e quindi selezionato. Se vogliamo invece utilizzare il mouse e la tastiera, basterà selezionare con un clic del tasto sinistro la prima cella del gruppo, e cioè quella più in alto e a sinistra, che nel nostro caso è la C3. Tenendo premuto il tasto Shift della tastiera, cliccheremo con il mouse l'ultima cella dell'intervallo, e cioè quella più in basso a destra, che nel nostro caso è la H8. Solo dopo aver effettuato questo clic, potremo lasciare andare il tasto Shift della tastiera. Come è possibile notare, risulteranno selezionate tutte le celle all'interno del rettangolo, che ha per estremi opposti la cella C3 e la cella H8. Se vogliamo invece utilizzare solo la tastiera, basterà selezionare con un unico clic del tasto sinistro la prima cella del gruppo da selezionare, e cioè quella più in alto e a sinistra, che nel nostro caso è la C3. Tenendo premuto il tasto Shift della tastiera con la mano sinistra, ci muoveremo lungo le celle da selezionare utilizzando con la mano destra le frecce direzionali della tastiera, verso destra e verso il basso. Se invece ci muoviamo con le frecce direzionali, sempre tenendo premuto il tasto Shift della tastiera, mi raccomando, verso sinistra e verso l'alto, attueremo una deselezione. Solo dopo aver raggiunto l'ultima cella della selezione, potremo lasciare andare il tasto Shift della tastiera. Supponiamo adesso che le celle da selezionare non costituiscano un'area omogenea, cioè vogliamo selezionarne una qua e una là all'interno del foglio di lavoro di Excel. Basterà selezionare con un clic del tasto sinistro del mouse la prima cella del gruppo. Tenendo premuto stavolta il tasto CTRL, cioè Control della tastiera, cliccheremo con il mouse su tutte le celle che vogliamo. Solo quelle su cui si è materialmente cliccato risulteranno evidenziate e quindi selezionate. Solo dopo aver effettuato l'ultimo clic, potremo lasciare andare il tasto CTRL della tastiera. E questo è tutto ciò che c'è da sapere sulle selezioni multiple di Excel. Concludo ricordandovi che, se non lo avete già fatto, potete iscrivervi al mio canale, in modo da sapere subito quando saranno caricate le nuove lezioni di Excel. In questo modo aiuterete anche il canale a crescere e mi darete l'entusiasmo necessario per caricare tanti altri nuovi video didattici.